Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove si segnalano code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Plato Est in direzione Pisa. In A1 direttissima rallentamenti per una perdita di carico tra Firenzola e Aglio in direzione Bologna. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata verso Genova in uscita provenendo da Genova. Sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per lavori tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta verso Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!